Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Oggi in questo nostro spazio parleremo di Mare e della manifestazione in particolare Mare in Friuli Venezia Giulia. Nella seconda parte invece ci occuperemo del Festival Rose Libri Musica e Vino 2024 che vede in questi giorni proprio la preparazione del secondo appuntamento. Ma vi presento subito il nostro primo ospite, si tratta di Lucio Sabbadini, amministratore delegato di Mare FVG e il cluster regionale appunto dedicato al mare. Buonasera e ben arrivato. Grazie dell'invito. Grazie di essere qui con noi quest'oggi per parlare di questa bella iniziativa Festival Mare in Friuli Venezia Giulia con oltre 50 appuntamenti, due settimane di festival, in 30 location diverse, 47 partner per esplorare proprio i legami del Friuli Venezia Giulia e della nostra regione con il mare. Allora le chiedo subito come è nata questa iniziativa e da cosa nasce proprio, da quale così suggerimento nasce e come si sviluppa il programma? Grazie. L'iniziativa Mare in FVG nasce da uno spunto che è venuto dalla Commissione Europea che ha dichiarato il mese di maggio come mese europeo del mare. L'idea di costruire anche in Friuli Venezia Giulia una manifestazione che parlasse di mare è stata lo spunto iniziale. Da qui abbiamo iniziato a lavorare, questa qui è la terza edizione, diciamo l'edizione della maturità se posso definirla così, abbiamo iniziato a raggruppare, che è il nostro mestiere poi di distretto regionale, raggruppare chi di mare se ne occupa normalmente e se ne occupa facendo anche manifestazioni molto importanti nell'arco dell'anno, ma non se ne ha mai occupato coralmente, cioè tutti insieme. L'idea quindi è stata quella di fare una manifestazione in cui per una volta si faccia sinergia, si portino ai cittadini, agli utenti poi di questa manifestazione principali, delle esperienze combinate. faccio un esempio che vale per tutti, il teatro La Contrada che fa uno spettacolo allo Yachting Club Adriaco, un'escursione in bicicletta fatta insieme a Trieste Book Festival e che quindi combina un'attività ludica, escursioni in bicicletta le facciamo tutte le domeniche o tutti i sabati tutti noi, o perlomeno chi di noi ama la bicicletta, ma non è mai già stata l'occasione di fare un'escursione letteraria in bicicletta. Quindi la combinazione insomma di più. Quindi combinare le esperienze per fare diciamo un'offerta che è sicuramente più accattivante. Chiarissimo, quindi addirittura tantissimi, citavo prima proprio i numeri di questo festival, tantissimi gli appuntamenti e anche molto variegati, molto diversi, quindi a quale tipo di pubblico si rivolgono un po' eterogeneo? Allora gli appuntamenti sono molto diversi perché, faccio un piccolo inciso, il mare non è soltanto una fonte di benessere, non è soltanto una destinazione turistica, non è soltanto una fonte di ricchezza alimentare, non è soltanto una fonte di impresa, pensiamo al porto, pensiamo ai costruttori navali, ai costruttori di yacht, ma è tutto questo e in più è cultura, è il veicolo attraverso il quale nei secoli le culture si sono incontrate. È vero. Quindi abbiamo immaginato di avere eventi il più possibile variegati, che vanno dall'introduzione degli sport marini alla scienza del mare, alle problematiche del mare, il cambiamento climatico, l'innalzamento del livello delle acque, i fenomeni estremi, alla storia, circonnavigazione del globo piuttosto che la storia dello yachting, che c'è in corso adesso un evento sulla storia dello yachting e poi eventi per le imprese, per gli enti di formazione, quindi eventi più a numero chiuso per addetti ai lavori di un certo livello, quindi veramente tutto lo spettro. Tanti eventi per i giovani, perché poi il futuro è in mano loro. Anche giovanissimi, vero? Anche giovanissimi, anche i bambini, perché bisogna far giocare, bisogna affascinare i bambini al futuro, a tutto quello che è l'ambiente che ci circonda e l'economia e la società che ci circonda. Quindi anche tanti giochi per i bambini, tanti eventi per i bambini, in diverse piazze, in diversi posti, tanti posti. Allora, entriamo un po' nel dettaglio, perché il festival è iniziato lunedì 6 maggio, lunedì scorso, quindi è appena cominciato, durerà fino a domenica. Domenica fino a domenica il 19. Il 19, quindi ci sarà la possibilità, insomma, davvero di incontrare qualche manifestazione, insomma, che incontra proprio il nostro interesse, no? Perché, dicevamo prima, sono molto variegate e ci sono iniziative di tutti i tipi, stava dicendo. Vedo anche molta attenzione all'arte e alla divulgazione. Assolutamente, assolutamente. L'arte è, diciamo, forse la principale forma di cultura, se vogliamo adoperare questo termine, perlomeno la più antica. Abbiamo delle manifestazioni in cui, di nuovo, gli artisti e l'arte incontra, o ha incontrato, lunedì giusto c'era, è aperta fino a giugno, una mostra a Muggia delle opere legate al mare di Ugo Carrà. Nei prossimi giorni apre una mostra a Porto Piccolo di artisti, di due artiste che hanno scelto il mare come soggetto per sviluppare tutto un percorso che lega le cave di marmo di Aurisina al mare. che forse non è per tutti facilmente intelligibili, ma il marmo nasce nei fondali marini. E quindi c'è un collegamento geologico, in questo caso, che le artiste hanno ripreso, rielaborato, e non dico niente, ma bisogna andare a Benissaggio per vederlo. Assolutamente. Dicevamo a Trieste, a Monfalcone, a Lignano, insomma, vari posti che vengono toccati. Assolutamente, tutti posti perché il mare del Friuli Venezia Giulia, che copre un tratto di costa molto ampio e anche molto variegato come tipologia di attività. Se pensiamo a Lignano, pensiamo soprattutto al turismo e alla nautica. Se pensiamo a Monfalcone, forse abbiamo un immaginario più legato alla cantiere, così a Trieste, legato al porto. Però poi in realtà non è esattamente così, perché poi a Monfalcone c'è anche tanto di porto, c'è anche a Marina Iulia tante attività sportive. Quindi in realtà è molto più variegata la presenza del mare in regione di Friuli Venezia Giulia e non si ferma al litorale. Consideriamo che 1300 sono le imprese che lavorano sulla parte industriale legata al mare, quindi non sto considerando tutte le centinaia, forse migliaia di imprese che lavorano sulla parte turistica del mare e sono distribuite in tutte le province e complessivamente occupano 30.000 addetti. Insomma, non sono pochi. Quindi il mare è economia, è anche una ricchezza fondamentale per la regione ed è possibilmente il futuro per tanti i nostri ragazzi e figli. Ragazzi e anche qui torniamo ai giovani. E qui torniamo a una serie di eventi importanti per i giovani. Oggi è in corso in Monfalcone un evento di un progetto internazionale sulla protezione del mare, sulla sostenibilità del mare, sull'iniziativa per la sostenibilità marina al Centro Giovani in Monfalcone. La settimana prossima, tutte le mattine, al Museo del Mare Trieste e a Monfalcone, negli ultimi giorni della settimana, ci sono laboratori per i giovani. I laboratori che a Trieste sono i laboratori finali di un percorso didattico che ha coinvolto mille studenti della regione e 400 di loro che hanno fatto un certo tipo di percorso si sfideranno in una gara portando i modellini che hanno realizzato, dei modellini di nave che hanno realizzato e si sfideranno in una gara che è gestita non da noi ma dal CNR, dall'Istituto Ingegneri del Mare del CNR, quindi da professionisti che valutano la qualità dei modelli delle navi vere e in questo caso si prestano a valutare la qualità dei modelli realizzati da ragazzi di 12-13 anni. In questi laboratori però anche un po' contest, diciamo così. Assolutamente sì, assolutamente sì, servono per entrare in quello che è la progettazione della nave che è un mondo immenso e anche affascinante. E anche qui vicino a noi, no? E vicino a noi, assolutamente vicino a noi. Il nostro territorio, assolutamente. Si parla anche di attività subacquea, con la propria attività quasi sportiva, ludica, possiamo dire così. Assolutamente sì, ci sono diversi eventi, ce n'è uno proprio questa sera alla Piscina Bianchi, ci sono attività a Marina Iulia, a Lignano, di introduzione agli sport acquatici, per i giovani ma anche per i meno giovani, perché anche quello è mare, anche quello è come vivere il mare in modo cosciente, quindi non guardandolo da lontano, ma affrontandolo e capendone quali sono le potenzialità. Con un occhio alla sicurezza, no? Con un occhio alla sicurezza della navigazione. Ieri c'è stato un importante evento al magazzino 26, fatto dalla Federazione Italiana Vela, dalla Capitanea di Porto, sulla sicurezza, sulla sicurezza in questo caso civile, di protezione civile. Oggi c'è un evento in Capitanea di Porto su quali sono le criticità che dovremo affrontare in conseguenza dei cambiamenti climatici e nei prossimi giorni ci sono altre riprese di questo tema ambientale. La settimana prossima ci sono due eventi per gli addetti ai lavori, ma che riprendono sempre questo motivo ambientale, uno che riguarda la formazione delle nuove professioni del mare, anche legata sia alla sostenibilità ambientale, sia a tutti i cambiamenti in atto nella società, sia per l'evoluzione del digitale, ma anche per l'evoluzione dei fenomeni atmosferici. E un altro evento che è il Next Maritime Technology Day, che è un evento importantissimo, che vedrà presenti decine di imprese e tutto il sistema scientifico regionale, non solo, anche extraregionale, per confrontarsi su quello che sono le tecnologie di domani, per rispondere di nuovo ai temi ambientali, ai temi sociali, ai temi di crescita competitiva, delle navi, dei porti, del sistema logistico e quindi della nostra vita, poi di tutti i giorni. Infatti, la città di mare, insomma, la vita ha a che fare continuamente con questi discorsi, è vero. Se posso dire un numero, in regione di Friuli di Sè Giulia, un euro su sei di produzione è legato al mare. Quindi, un sesto della ricchezza del Friuli di Sè Giulia è legato al mare, e che non è poco, cioè è un numero importante, ecco. Infatti, è un numero di tutto rispetto. Anche per questo, insomma, si parla molto, lo stava dicendo adesso, di professioni, professioni legate al mare, di, ad esempio, formazione anche, no? Assolutamente sì. Per prepararci al futuro di quelle che siamo in regione. Allora, due informazioni importanti. La regione di Friuli di Sè Giulia è la regione in Italia in cui si fa più formazione, più formazione durante la vita lavorativa, perché ormai la formazione non si ferma con l'acquisizione di un titolo, ma continua sempre. È la regione in Italia in assoluto in cui si fa più formazione. E la regione di Friuli di Sè Giulia sul mare ha aperto un focus, particolare e l'incontro di lunedì pomeriggio avverte proprio su questo, proprio per cercare di anticipare nei percorsi formativi e anche nei percorsi di istruzione le richieste che verranno al mondo del lavoro, quindi per essere leader e confermarsi leader nel mondo marittimo, avendo, diciamo, mettendo a disposizione dei giovani e dei lavoratori tutte le competenze di avanguardia che servono per essere leader. E questo credo che sia un intervento della regione molto, molto importante, un investimento della regione molto importante, perché è un investimento che guarda veramente a dopodomani. siamo molto abituati a curare i mali di ieri o quelli di oggi, invece in questo caso stiamo guardando a dopodomani, a 5-10 anni. E quindi è la prospettiva. E quindi stiamo costruendo il futuro. Siamo veramente costruendo il futuro. Molta parte delle iniziative legate alla divulgazione, alle conferenze, eccetera, agli approfondimenti, possiamo dire così, sono legate proprio alla questione dell'inquinamento, del cambiamento climatico, della tutela proprio dell'ambiente mare. C'è molto questo aspetto. C'è questo aspetto, questo aspetto ormai è un aspetto vitale. Infatti, ci occupiamo spesso anche nei telegiornali, non più tardi di oggi, insomma, vedremo anche dei servizi legati proprio alle mareggiate, ad esempio, ai danni che hanno provocato, eventi sempre più estremi, eventi sempre più estremi e sempre più frequenti. Il tentativo, spero che sia un tentativo riuscito che porta a questa manifestazione è quella di cercare di far entrare i cittadini, i non esperti, i non esperti a comprendere la dimensione di certi fenomeni e l'origine di certi fenomeni che spesso non è così evidente. Spesso per capire un fenomeno vicino, immediato, bisogna guardare lontano e capire da dove viene, come sta crescendo e come crescerà, perché siamo in un presente ma abbiamo gli strumenti per iniziare a capire qual è il futuro, no? E questa dimensione culturale secondo noi è molto importante perché la consapevolezza è l'unico percorso che ci porta a cambiare il nostro modo di essere e quindi a cercare di fare qualcosa di positivo per se non altro limitare il danno. Le possibili conseguenze. Le conseguenze, no? Infatti. Molto spazio però anche lo dicevamo prima alle attività anche di escursioni così passeggiate. Sì, sempre facendo delle escursioni che legano la parte ludica alla parte culturale. Un esempio c'è un'escursione in Carso in cui si parla di palombari perché in realtà i palombari venivano da Contovello che non è un paese sul mare è un paese che guarda il mare, no? È vero. Quindi c'è fatto un esempio c'è un'escursione a Trieste dentro a Trieste che parla di Bora la Bora è vero che è un vento e non è mare però è un vento che influenza molto il nostro modo di essere sul mare in questa città no? Infatti. In questa regione direi oltre che in questa città quindi sempre questa combinazione fra aspetti diversi perché solo in questo modo riusciamo a capire veramente le cose anche questa multiculturalità è una cosa importante e così è importante il fatto che siamo diciamo e secondo me è un fatto fondamentale di questa manifestazione forse mi ripeto abbiamo siamo stati capaci di combinare esperienze veramente lontane per offrire una visione non comune non usuale per uscire un po' dagli schemi uscire dagli schemi uscire dagli schemi c'è una conferenza su Granchio Blu al Museo di Storia Naturale dove il Museo di Storia Naturale ovviamente studia il passato esproni il passato il Granchio Blu è il presente e il futuro ma le due cose non sono lontane le due cose si sposano perché poi in realtà quindi l'attualità davvero strettissima è un nuovo arrivato un nuovo arrivato possiamo chiamarlo specie aliena o possiamo chiamarlo Granchio Blu ma quanti nuovi arrivati ci sono stati nel passato che per noi adesso sono immaginiamo che ci fossero stati da sempre e ci siano stati da sempre e quindi è bene anche capire è bene capire questa dinamica temporale della biodiversità dove può portarci dove può portarci c'è anche l'iniziativa della pulizia dei fondali non manca mai in questo tipo di programmi perché è importantissimo perché è fondamentale è fondamentale non solo perché dopo quella zona di mare è più pulita o quella zona o quella spiaggia è più pulita ma perché facendo partecipare soprattutto i giovani alla pulizia ma non solo i giovani devo dire facendo partecipare le persone alla pulizia dei fondali ci si rende conto quanto quello che noi buttiamo con diciamo semplicità con distrazione poi in realtà ce lo ritroviamo davanti è vero e quindi anche per capire i percorsi di certe materie e capire quindi quanto siamo noi responsabili di quello che di quello che succede di quello che ci troviamo davanti siamo noi responsabili e soltanto noi possiamo cambiare la cosa non possiamo pensare che sia qualche di un altro che cambia la situazione e quindi insomma una sensibilizzazione anche nell'ambito del ricchissimo programma di 50 eventi che si trovano tutti avete un sito immagino quindi online si trovano tutti sul sito www.mareinfvg.com ecco per avere proprio il programma dettagliato si c'è tutto il programma tutti gli eventi le descrizioni di tutti gli eventi quindi già i prossimi eventi insomma a partire già da domani ci sono delle proiezioni delle conferenze anche qui a Trieste assolutamente sì domani c'è una proiezione al Miela sulla biodiversità e sui cambiamenti della biodiversità e ci sono altri eventi adesso a memoria non li ricordo sono tantissimi ce ne sono molti una visita a formazione open hour all'accademia nautica l'accademia nautica le scuole sono un elemento fondamentale le scuole sono un elemento fondamentale perché sono uno strumento per creare per dare un futuro è vero e poi ci sono anche naturalmente addirittura letture teatrali quindi è coinvolta qualsiasi arte in queste iniziative assolutamente sì letture teatrali perché il mare è tutto è sempre un incrocio diciamo il mare è tutto è il primo elemento di vita di benessere perché è l'elemento che governa il clima soprattutto in una zona come il Fiume e Giulia stretta fra le montagne e il mare infatti tornando invece all'economia c'è anche proprio la costruzione delle navi e qui chiamiamo in causa Monfalcone ad esempio il museo della cantieristica i musei hanno un ruolo fondamentale perché i musei il museo della cantieristica di Monfalcone il museo del mare di Trieste il museo di scienza naturale i musei stanno modificando il loro ruolo i musei non sono più il luogo del passato ma stanno diventando il luogo del futuro e il futuro lo si comprende avendo compreso il passato quindi sono un luogo in cui si comprende la transizione e quindi è fondamentale riportare le persone nei musei perché vedendo il passato e aprendo la mente al futuro si può capire dove stiamo andando e se stiamo andando nel verso giusto infatti è uno degli obiettivi dell'intera manifestazione lo ricordiamo mare in Friuli Venezia Giulia al di là poi delle escursioni ci saranno anche presentazioni di libri e si torna a parlare dell'impresa del Batiscafo Trieste ne abbiamo parlato anche noi nei nostri telegiornali è una ricorrenza quest'anno parliamo di quell'impresa parliamo dell'impresa della Fregata Novara che ha fatto la circunnavigazione del globo in un'epoca assolutamente in cui non era usuale come adesso è vero ok e anche in quel caso lì ne parliamo da un punto di vista storico da un punto di vista diciamo costruttivo da un punto di vista delle musiche che venivano suonate a bordo addirittura quindi una ricostruzione a tutto tondo e addirittura con una ricostruzione con i visori tridimensionali per cui una realtà immersiva per provare per un attimo l'esperienza di essere a bordo non ci sa non mancheranno nemmeno le cerimonie di consegna di riconoscimenti nell'ambito proprio del rapporto con le scuole con il rapporto con le scuole assolutamente con il nautico eccetera assolutamente quindi anche questo aspetto è molto importante diciamo la conclusione di gare che hanno visto coinvolti i giovani diciamo è stata la prima manifestazione e poi tutte le gare navigando sono in questa direzione sono riconoscimenti del lavoro fatto dagli studenti e della qualità del lavoro fatto dagli studenti si parla anche di tecnologia lo dicevamo prima lo dicevo prima si parla di tecnologia perché è il futuro la tecnologia anche in questo caso combinando le eccellenze scientifiche che abbiamo sul territorio con le eccellenze industriali perché è assolutamente fondamentale che si parlino e che quindi ci sia un flusso di conoscenza dalla scienza alla produzione allora il programma è davvero ricchissimo lo trovate appunto sul sito www.marinefwg.com perfetto allora io ringrazio Lucio Sabbadini amministratore delegato di Mare Friuli Venezia Giulia per essere stato con noi lo invito a trovarci presto invito tutti a partecipare grazie grazie davvero noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità bentornati in diretta allora diamo subito la buonasera e ben arrivate a Simonetta Loregliora collaboratrice della cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone buonasera e a Gioia Battista drammaturga e collaboratrice di Anger Teatri buonasera anche a lei grazie di essere qui con loro parleremo del Festival Rose Libri Musica e Vino del 2024 di questa edizione che sarà in corso e in corso tutt'ora sarà in corso fino al 31 di maggio fino alla fine del mese allora Simonetta Loregliora le chiedo subito un po' di introdurre il Festival quali sono gli appuntamenti che sono già così andati in scena per così dire e quali invece quelli che ci aspettano da qui al 31 maggio certo buonasera a tutte e a tutti intanto grazie per l'ospitalità è una rassegna una rassegna che oramai ha la sua tredicesima edizione quindi direi una rassegna storica oramai per questa città sono quattro i lemmi le rose i libri la musica e il vino quest'anno in realtà sono cinque perché c'è anche il teatro sorpresa perché quest'anno è un'edizione speciale gli organizzatori la cooperativa agricola Monte San Pantaleone che qui rappresento e l'Università di Trieste che quest'anno celebra i suoi cento anni dalla nascita quindi questa rassegna festeggia perché la cultura si deve anche festeggiare anche questo anniversario e per festeggiarlo ogni venerdì perché la rassegna si svolge ogni venerdì di maggio lo ricordiamo al parco di San Giovanni in particolare in quel meraviglioso rosetto che ospita cinquemila rose in fiore a maggio adesso è in piena fioritura in piena fioritura quindi proprio un'esperienza sensoriale a tutto campo con il naso con gli occhi con il dialogo con le persone quindi insomma proprio un luogo dove incontrarsi ecco e quindi dicevo ogni venerdì è dedicato a una personalità della cultura triestina ma che è uscita da Trieste anche cioè qualcuno che ha saputo anche parlare al mondo ecco e quindi abbiamo cominciato venerdì scorso il 3 maggio con Franco Basaglia e continuiamo per i prossimi venerdì adesso il prossimo lo dedicheremo a Gaetano Canizza di cui Gioia parlerà dopo perché in questo momento è la massima esperta sicuramente su Canizza e poi proseguiremo con Paolo Budinici che è stato un fisico il fondatore del centro di fisica teorica insieme a Abusalam e Gillo Dorfles poi Gillo Dorfles chi non lo conosce cioè l'eclettico artista, filosofo esteta che anche lui ha parlato un po' al mondo e poi Margherita Huck perché non per una quota rosa ma perché è stata una grande non triestina in questo caso ma sicuramente adottata adottata da Trieste quindi questo carellata diciamo e ogni venerdì intorno a questi personaggi decliniamo i lemmi della della rassegna che non sono solo appunto solo sono i quattro originali ma c'è anche il teatro allora chiedo subito appunto a Gioia Battista di raccontarci questa giornata del venerdì dedicata a Canizza e in particolare poi dello spettacolo teatrale allora sì io sono una collaboratrice di Angar Teatri sono una drammaturga una regista e c'è arrivata questa commissione appunto dall'università di occuparci di una figura una figura quella di Gaetano Canizza a molti magari sconosciuta ma chi mastica un po' di psicologia e viene da Trieste sicuramente lo conoscerà Gaetano Canizza era una figura incredibile io l'ho conosciuta perché a mia volta sono un'ex alunna dell'università degli studi di Trieste quindi vengo da lì come anche tutti i ragazzi di Angar e dicevo in conferenza stampa che per noi questa è un'occasione meravigliosa di omaggiare la nostra università e la città che ci ha accolti perché siamo tutti non triestini e la scelta di Gaetano Canizza l'abbiamo declinata in modo da riuscire a parlare di lui della sua figura e della sua grandezza in un dialogo con il suo maestro che era Cesare Musatti che era un grandissimo psicoanalista quindi anche qui il rapporto fra maestro e allievo ritorna come ritorna appunto il nostro rapporto con l'università Gaetano Canizza faccio una breve parentesi per chi non lo conosce nasce a Trieste nel 1913 e diciamo si occupa tutta la vita di studio di psicologia sperimentale cosa vuol dire è quella branca della psicologia forse più vicina oggi potremmo dire alle neuroscienze per cui lui cerca in tutti i modi di trovare quell'esperimento impossibile quella figura che faccia vedere il pensiero e le sue ricerche si concentrano su inganno e verità della percezione perché lui da buon gestaltista quindi da buono studioso della forma si concentra proprio su questa illusione ottica che ci fa il pensiero e quindi una sua celebre figura è il triangolo di Canizza che è famoso in tutto il mondo dove lui dimostra che l'occhio umano vede questa figura geometrica anche quando non è disegnata quando non ha i contorni quindi quando non è definita e questo è un classico errore di percezione poi ne fa tantissime altre alcune molto interessanti che mostreremo anche durante lo spettacolo e sarà appunto una cosa anche un po' interattiva questa di far vedere al pubblico di far vedere oltre al pubblico e la figura di Canizza poi attraverso il teatro per noi ha anche un'altra grande caratteristica lui cerca di far vedere ciò che non è e il teatro in questo è maestro e quindi quale miglior cosa di far vedere quindi far vedere Canizza e Musatti nelle persone di due attori di far vedere ciò che non è un dialogo impossibile che probabilmente non c'è mai stato o forse anche sì chi lo sa di riportarle in qualche modo in vita in scena e di farle interagire anche col pubblico e con le loro figure quindi noi speriamo insomma che lo spettacolo abbia un seguito poi che tanti altri si appassionino a Canizza e c'è una mostra molto bella in università in secondo piano per chi la vuole andare a vedere quindi per chi poi vorrà documentarsi ancora dopo che si chiama i miei pupoli perché Canizza da buon triestino ci teneva anche a queste cose a questi neologismi meravigliosi triestini e che rappresentano tutte le figure che lui ha studiato e che ricordano un po' il pensiero umano quindi diciamo che il nostro approccio con Canizza è assolutamente sperimentale come lui voleva gli attori in scena lo dico sono Fulvio Falzarano e Nicola Ciaffoni la drammaturgia è mia originale e poi avremo una piccola sorpresa perché per fare questo spettacolo abbiamo avuto l'onore insomma di avere come consulente scientifico il professore merito Walter Gerbino dell'Università degli Studi di Trieste che è anche l'ultimo allievo di Gaetano Canizza e quindi c'è stato anche qui il rapporto maestro allievo e lui ci regalerà una piccola sorpresa sul finale ecco che non svegliamo che non svegliamo ora per curiosire il pubblico che vorrà andare a vedere questo spettacolo che sarà in scena al parco di San Giovanni venerdì 10 alle ore 19 alle 19 ecco diamo subito l'appuntamento così poi lo ripeteremo magari nel corso della trasmissione per chi volesse andare a vederlo ma venerdì 10 maggio non c'è soltanto questo particolare omaggio a Gaetano Canizza ma c'è anche molto altro nel consueto programma che è suddiviso in vari filoni possiamo chiamarli così dedicati alle rose bambini le rose libri allora vogliamo raccontare quale sarà la giornata di venerdì si inizia alle 15 e 30 ci si trova proprio a Roseto quindi in questo luogo meraviglioso con una passeggiata della memoria le passeggiate sono un classico di questa rassegna sono condotte da persone provenienti da ambiti disciplinari diversi e utilizzano degli itinerari all'interno del parco che è molto grande perché sono 21 ettari di giardini di alberi di rose quindi possono essere dedicati a vari temi i temi sono sempre a sorpresa per cui sono delle passeggiate a sorpresa però possiamo dire che questa di venerdì 10 maggio verrà condotta da Kevin Nicolini che è un cooperatore sociale e che ha preparato la sorpresa per chi vorrà partecipare a questa passeggiata diciamo anche che la partecipazione a tutti gli eventi è gratuita perché è importante è aperta e gratuita ricordiamolo è vero è bene e tutto si svolge nel rosetto compreso lo spettacolo teatrale quindi avete questo palco diciamo immerso nelle rose ecco anche questo credo che sia un dato importante per chi vuole immaginarsi il luogo dove tutto questo accadrà in caso di maltempo in caso di maltempo saremo al teatrino Franco e Franca Basaglia che è attiguo per cui questo maggio ci sta regalando giornate bellissime ma anche qualche piccola problematica allora quindi non si sa mai però noi faremo sprendere il sole anche dentro il teatro eventualmente comunque con tutta la rassegna per cui sicuramente sarà comunque bello ma speriamo naturalmente nel sole anche perché rose e bimbi che inizia alle 16 al minimo quindi insomma con un diciamo laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni che si chiama mare disegni e disegni quindi la manualità con l'immaginazione il racconto il dialogo i bambini entrano in campo anche qui la partecipazione è gratuita sarebbe meglio prenotarsi sul sito dell'agricola Monte San Pantaleone si trovano tutte le informazioni inutile che stiamo a darle qui è proprio per non avere delle situazioni magari di sovraffollamento esatto perché sono molto partecipati in genere questi laboratori in realtà tutta la rassegna è molto partecipata forse quel luogo di rara bellezza insomma è un catalizzatore diciamo oramai da tanti anni per cui proseguiamo alle 17 con il tema rose perché insomma le rose sono un po' il clou di tutto per cui c'è sempre un momento dedicato parleremo del giardino come metafora del mondo quindi diciamo un tema abbastanza denso ma che sicuramente racconta un po' diciamo il rapporto tra il giardino e il paesaggio l'ospite è Anna Cuccian che è un'architetta del paesaggio che proviene dall'Università di Lubiana e con lei converserà l'operatore culturale Massimiliano Schiozzi e quindi ci sarà anche lì questo dialogo dedicato proprio al paesaggio al giardino come elemento del paesaggio e poi i libri un altro tema portante centrale della rassegna ecco i libri lì c'è proprio una connessione diretta con Canizza perché Canizza nella sua biografia ha anche questo diciamo passaggio al laboratorio Olivetti di Ivrea grazie poi a Cesane Musatti grazie proprio a Musatti che lo porta lì esatto anzi racconta tu Gioia cosa ha fatto Canizza sono stati gli anni Musatti è andato lì nel 42 ha iniziato a lavorare con Adriano Olivetti che appunto grande imprenditore italiano lui cercava di capire lui diceva sempre che per capire per riuscire a far lavorare meglio bisogna capire il lunedì nero di un operaio quindi bisogna capire cosa sono i sentimenti di chi lavora e quale miglior modo che chiamare uno psicoanalista e quindi chiama Cesare Musatti Cesare Musatti poi nel 42 iniziano questo percorso poi Olivetti viene arrestato Musatti viene mandato via nel 45 arriva anche Canizza in questo grande laboratorio di psicologia sociale che è la fabbrica di Olivetti e inizia a lavorare anche lui e ricorda questo come anche uno dei periodi più fertili più fervidi della sua vita proprio perché aveva a che fare con le persone tra l'altro una particolarità di Canizza che anche lui in quanto diciamo di famiglia ebrea e anche slovena lui era stato mandato a un certo punto al confino dopo le leggi razziali e gli era stata tolta la cittadinanza italiana e lui era finito a Butrio in provincia di Udine aveva aperto un allevamento di conigli d'angora questa parentesi della sua vita meravigliosa e lui lì inizia a fare anche esperimenti di psicologia sociale con le massaie che vanno a filare che vanno a tosare i conigli lui inizia a fare questi giochi anche con loro che poi riporta tutto anche nell'esperienza con gli operai quindi questa cosa è molto bella perché Canizia è veramente uno psicologo uno studioso a 360 gradi e ricordare anche questo come anche mi ricollego un attimo il discorso per esempio del laboratorio dei bambini dei segni questa cosa qui è molto importante perché Canizia era un compittore e aveva poi nel segno lui c'era una cosa che diceva sempre voleva capire se la sua idea di immagine era già presente nella sua mente oppure la mano lavorava per l'inconscio quindi anche questa cosa qui di avvicinare per esempio i bambini all'arte alle immagini alle figure è anche una cosa secondo me in linea perfettamente con l'omaggio che si vuole dare a Canizia con il personaggio sì decisamente studiato appositamente insomma quindi davvero una giornata di omaggio a questo grande personaggio lo diceva prima appunto magari poco conosciuto dai più però è un bene insomma farlo conoscere anche al grande pubblico possiamo dire così a tutti i triestini che vorranno partecipare a questa bella iniziativa e quindi rose e libri insomma abbiamo parlato di questo appuntamento importante che sarà moderato dalla giornalista fra l'altro dalla collega Mary Barbara Tolusso e poi ci sarà anche rose e vino perché naturalmente non manca questo appuntamento tutti i giorni tutti i venerdì certo perché quando arriva l'ora dell'aperitivo arriva l'ora del vino lo dico nel senso bello lo dicevamo proprio prima con Gioia la convivialità è un po' anche un fil rouge che caratterizza questi pomeriggi nel rosetto il teatro è un momento che mette al centro la convivialità così come il dialogo con l'autore così anche come il fatto di bere un bicchiere di vino in compagnia e soprattutto ascoltare il racconto del vignaiolo perché il vino è soprattutto un prodotto culturale è per questo che sta all'interno di questa rassegna non solo ecco perché è l'ora dell'aperitivo ma perché il vino è un prodotto culturale che ha millenni di storie alle sue spalle e come diceva Luigi Veronelli grande critico gastronomico e dell'enologia italiana il vino è racconto soprattutto il racconto del vignaiolo chi abbiamo qui venerdì sempre guardando a Canizza una sua allieva rimane anonima magari la sveleremo però venerdì perché ha detto che sarà presente quindi magari gliela facciamo raccontare questa cosa che lei ha raccontato a me lei è stata allieva di Canizza si è laureata anche con lui e ricorda che Musatti veniva spesso a Trieste a tenere anche delle lezioni mi ricordava che ai tempi in cui è nato l'istituto di psicologia che ha fondato proprio Canizza erano pochissimi gli studenti che si dedicavano alla psicologia lei dice eravamo 40 in tutti i quattro gli anni per cui praticamente una classe di liceo si conoscevano tutti facevano le lezioni e però poi dice avevamo anche oltre all'aula all'università due succursali in cui continuavamo le lezioni erano due osterie una in città e una in classe i congressini li chiamava lui congressini che iniziavano in università e non si sapeva mai dove finivano o in osteria in osmizza qualcosa perché aveva questo modo anche di riuscire a parlare agli studenti e di coinvolgerli fino in fondo sì sì è vero confermo la biografa conferma e lei mi diceva che ti dirò mi ha detto che come nella tradizione del simposio del simposio platonico il vino aveva un suo ruolo perché mano a mano diciamo che si contavano i bicchieri tanto più si alzava il livello della discussione diventava molto interessante o veniva percepito come interessante a proposito di percezione comunque di fatto lei dice mi ricordo benissimo che Canizza appunto per il suo amore per Trieste che citavi tu prima gioia amava particolarmente i vini del Carso noi quindi abbiamo voluto scegliere un vino il più carsolino di tutti che è la Vitoska la Vitoska è proprio un vitigno nato nel Carso che ha cittadinanza pienamente carsolina quindi ci sarà una Vitoska quella di un giovane vignaiolo sagacissimo che si chiama Milos Skabar che ha i suoi vigneti tra Repen e Contovello e quindi presenterà la sua Vitoska che assaggeremo commenteremo con lui ci racconterà questo lavoro minuzioso che lui fa in questi piccoli vigneti dove lavora tutto manualmente quindi lavora esattamente come si lavorava 300 anni fa vendemmia manuale ma anche tutte le potature tutto a mano anche perché i vigneti sono così stretti così impervi è che sarebbe impossibile entrarci con un trattore ecco quindi diciamo anche questo è un pezzo della storia di questa città e dei suoi dintorni e dei suoi dintorni è vero e quindi rientra insomma a pieno titolo nel programma di questa iniziativa che ci state raccontando e volevo chiedere ancora a Gioia Battista quando è stato commissionato questo spettacolo per capire anche un pochino quanto tempo ci è voluto per mettere insieme questi studi ricordi e suggestioni insomma a noi drammaturghi non basta una vita per studiare è un lavoro di solito molto lungo è un lavoro che io chiamo anche quello di incubazione cioè leggere tantissimo poi lasciare un attimo decantare come giustamente come il vino e poi dopo magari iniziare a scrivere poi la cosa bella è che non c'è mai una tempistica ufficiale in questo caso abbiamo iniziato a lavorare qualche mese fa perché si tratta di una lettura e quindi di un testo anche abbastanza rapido da mettere in scena non è uno spettacolo quando si tratta di uno spettacolo a volte ci vogliono anche magari degli anni perché soprattutto c'è una parte molto importante del nostro lavoro e della nostra parola perché la parola per noi non è mai scritta la parola è agita la parola teatrale è detta quindi c'è una meravigliosa fase in cui io mi faccio dei sogni su tutto quello che deve succedere e poi arrivano gli attori e non è mai non è mai quello che ho nella testa poi io che sono anche regista non in questo caso ma di solito sono anche regista quindi ho proprio una visione dello spettacolo quindi poi arrivano gli attori e mettono il loro contributo che è una cosa io ogni volta mi stupisco perché è una cosa veramente magica perché tutto quello che io ho pensato le voci che io avevo nella testa la voce di Canizza la voce di Musatti anche avendoli sentiti magari nelle registrazioni delle cose e poi quando vanno in qualche modo le parole in bocca agli attori succede una magia e io li vedo lì e improvvisamente anche le parole che ho scritto poco convinta iniziano a prendere un senso e il dialogo funziona e le persone che fino a quel momento magari hanno assistito alle prove quindi non conoscono tutta la storia vengono investite da questo racconto capiscono e iniziano e la storia inizia a crescere inizia a diventare di tutti quindi quello è un momento per me è magico sempre ogni volta ormai sono non so cinquantina di spettacoli fatti però ogni volta è come la prima volta e anche in questo caso io prima di venire qui ero alle prove in hangar teatri risentire il copione letto dagli attori e pian piano immedesimarsi sempre più e calarsi nella parte io trovo che sia una cosa meravigliosa quindi insomma spero che poi anche le persone che vorranno venire a sentirci saranno catturate con la stessa intensità però è un lavoro molto lungo un lavoro spesso sottovalutato quello che facciamo noi c'è tanta passione c'è tanto studio e c'è tantissimo mestiere soprattutto poi degli attori che sono sul palco studio, ricerca insomma studio, ricerca ma poi con Gerbino il professor Gerbino che insomma ha conosciuto Canizza è stato suo allievo è professore merito dell'università c'è stato un gran lavoro di fino anche proprio per usare le terminologie giuste e non si finisce mai di imparare una cosa meravigliosa è che io mi sono trovata davanti al triangolo di Canizza 23 anni fa quando ho fatto l'università e quando l'ho ritrovato nel libro ho detto gli esami non finiscono mai sono ancora qui però è bellissimo è un bellissimo processo insomma allora quindi lo spettacolo la lettura appunto al parco di San Giovanni sempre alle 19 però la giornata inizia come sempre alle 15 e 30 diamo sempre gli appuntamenti con tutti i vari passaggi che abbiamo già illustrato parliamo un pochino anche del programma del proseguo del programma andiamo un po' avanti dopo questo venerdì appunto il 10 maggio ci sarà l'omaggio invece a uno scienziato no? esatto a un grande scienziato a uno scienziato e anche a un uomo con una grande visione della scienza in questa città ed è per questo che è stato scelto no? perché Paolo Budnich che tra l'altro ha raccontato nella sua biografia tutti i passaggi con cui lui stesso ha pensato di fondare perché è vero è un'idea sua perché quando lui si è incontrato con Abu Salam sapeva che c'era questa vaga cosa di fondare questo centro di fisica teorica ma non si sapeva dove ed è merito suo se siamo arrivati ad averlo qui e quindi diciamo con l'idea ricordiamolo perché era anche un'idea da grande portato sociale di creare questo centro culturale di riflessione teorica di produzione teorica per sostenere gli studenti i ricercatori dei paesi del sud del mondo cioè di chi non aveva le risorse magari per portare avanti i suoi studi nasce così il centro di fisica e lo è tuttora perché ci sono studiosi da tutto il mondo ecco e quindi l'omaggio a lui era assolutamente doveroso credo all'interno appunto di questa celebrazione dei cento anni tra l'altro anche lui come tutte queste persone che in qualche maniera sono degli intellettuali autentici sono sempre persone versatili proprio come cioè non hanno mai solo un interesse magari sono conosciuti per quella cosa lì che fanno lui è sempre stato un fisico però lui era anche un grande velista un viaggiatore uno scrittore ti si prestano a organizzare un programma che ricordi un po' tutti i vari interessi le varie scaccettature di una personalità assolutamente e infatti lì andiamo a parlare sicuramente ecco per esempio buttando così l'esca lui velista tra l'altro proveniente nato a Lussingrande proveniente da una famiglia di armatori che avevano velieri nelle flotte della Repubblica di Venezia e trasportavano erano commercianti ma erano proprio armatori e non a caso lui diventa un velista poi perché poi le cose della famiglia si portano dietro e allora abbiamo pensato per esempio per il vino ai cosiddetti vini navigati i vini navigati erano quelli trasportati nelle stive delle navi che andavano dal Mediterraneo un po' destinati a tutta l'Europa o viaggiavano nel Mediterraneo e il vino navigato per eccellenza naturalmente è la Malvasia la Malvasia un vino che ancora parla di questo territorio e quindi parleremo di Malvasia quella volta lì con Gregor Budin che è un altro giovane vignaiolo del Carso e quindi avviciniamo anche qua ancora una volta il Carso alla città e quello sarà il vino poi parleremo anche di scienza naturalmente con questo libro di Giacomo Destro ragione di stato ragione di scienza e quindi entreremo un po' nel paradigma di che cos'è la scienza nella società oggi si può trasformare in tante cose quindi insomma sveleremo anche un po' che cosa può diventare e poi anche lì il teatro avremo ancora proprio anche lì la celebrazione dei cento anni con questo spettacolo che si chiama Sconfinarrando questo sarà veramente un put purì di tante cose con partecipazione anche di Ariel Areggio tra gli altri i testi di Miran Cosciutta la regia di Lino Marrazzo ecco anche lì una sorpresona ecco secondo me perché sono tutte cose tutti spettacoli inediti diciamo e questo invece è l'appuntamento per venerdì 17 e poi naturalmente il programma prosegue il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto quindi io vi ringrazio ringrazio davvero per essere state qui per averci raccontato questa iniziativa tornate presto a trovarci anche con nuove iniziative e nuovi programmi grazie davvero e buon proseguimento buon lavoro grazie a voi a tutti e a tutti buonasera grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata all'appuntamento con le informazioni su Tele4 alle 19.30 con il nostro telegiornale buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti